Guadagnare migliaia di euro con l'affiliate marketing partendo da zero è possibile e soprattutto senza metterci la faccia e senza investire un solo centesimo. Andiamo subito al pc, ti faccio vedere come si fa. Ci focalizziamo sui super brand, quindi Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, Louis Vuitton Affiliate Program. Una volta arrivati qui, questo è il sito in questione. Arriverete a questa pagina, dovete registrare per il programma di affiliazione. Guadagnerete il 20% sulle vendite, poi ci arriviamo in come fare le vendite, non ci sono commissioni e i pagamenti vengono emessi ogni sette giorni lavorativi. E qua dovete registrarvi, vi comparirà la pagina dove andrete a inserire tutti i vostri dati e avrete il vostro dashboard pagina principale con tutti i vostri dettagli sull'affiliazione. Ovviamente nel vostro dashboard avrete anche la pagina di Louis Vuitton con tutti i prodotti con i rispettivi link. Quando voi andrete a pubblicare questi link nei social, nei siti eccetera, la gente comprerà da quei link, percepirete il 20% di guadagno su quel prodotto. Esempio, noi andiamo sul sito ufficiale di Louis Vuitton, cerchiamo ad esempio le borse, dobbiamo andare sulla valigia per esempio, ora che arriva l'estate potrebbe essere un must. Comunque, sempre qualcuno che compra valigie, in questo caso la valigia di Louis Vuitton vi costa 2.500, 2.600, 2.000, 2.300, 2.400, tutte sopra i 2.000. Diamo caso che voi vendete questa qui, che è la classica e costa 2.000 sterline, percepirete 400 sterline, ovvero il 20% del prodotto. Come posso venderlo? La piattaforma che ti suggerisco è Pinterest. È un'ottima piattaforma di ricerca dei prodotti, viaggi, cucine eccetera, la gente spesso va su Pinterest a cercare questa tipologia di cose. Ora vediamo come si fa, andiamo su Pinterest, andate su Crea, CreaPin e vi comparirà appunto questa pagina qui. Qua dovete trascinare un'immagine, ora se vado su Louis Vuitton posso prendere la classica shopper monogram Louis Vuitton, la prendo, la trascino su Pinterest, arrivo qui, lascio, incollo. Facilissimo ragazzi, qua dovete fare una descrizione accurata l'immagine e qua aggiungerete il vostro link di affiliazione. Potete fare questo gioco qua su qualsiasi prodotto esistente sul sito di Louis Vuitton. Non dovete metterci la faccia, non dovete fare alcun tipo di investimento ed è tutto totalmente gratuito. Molte persone ignorano questo tipo di business perché è ovvio che ci vuole tempo. Ma se anche una sola persona ti dovesse comprare un solo prodotto, tu ti porti a casa il 20%. Parliamo di super brand, quindi prezzi come vedete molto molto alti. Quindi se ogni tanto qualcuno casca e compra qualcosa, tu ti porti a casa un po' di soldi. Qual è il trucco? Pubblicare costantemente. Tutti i giorni pubblicare. Immagina, mettiti in testa un obiettivo. Tutti i giorni pubblichi un'immagine per 365 giorni. Avrai 365 immagini diverse e vuoi che almeno una persona non ti compri il prodotto. Anzi c'è una famosa regola che è quella del 3%. Se tu già vendi il 3% è già tanto. Quindi su 365 giorni già 9 persone potrebbero comprarti un prodotto. 400 per 9 sono 3600. Se anche solamente fatti in un anno, direi che non è per niente male. Cioè chi te li dà 3600 in un anno senza fare oggettivamente nulla. Devi semplicemente pubblicare delle immagini. Renditi conto. Ti svela una cosa. L'86% dei brand hanno il programma di affiliazione. Quindi puoi farlo non solamente, ad esempio di Louis Vuitton, ma per l'86% dei brand, dei super brand che esistono al mondo. Quindi iscriviti a tutti e inizia a pubblicare. Come descrizione del prodotto ti consiglio di pubblicare quella direttamente dal sito di Louis Vuitton. O puoi trovare comunque anche altri siti dove ti viene descritta questa borsa, copiarla e incollarla. Oppure potresti utilizzare l'intelligenza artificiale. Nel mio caso mi piace molto Poe.com. In quanto qua vengono fornite tutte le intelligenze artificiali di testo, tra cui anche ovviamente la nostra famosissima CiaGPT. Qua puoi scrivere un testo, per esempio. Pubblicizzami la borsa shopper di Louis Vuitton da vendere su Pinterest. Facciamo lavorare l'intelligenza artificiale ed ecco qua una possibile pubblicità per la borsa shopper di Louis Vuitton da promuovere su Pinterest. E qua avrete una descrizione dettagliata. Il suggerimento, che ovviamente voi avrete già fatto, accompagna la pubblicità con un'immagine accattivante della borsa. Qua avete anche la strategia, magari indossata da una modella o posizionata in un ambiente di lusso. Perché ovviamente attira di più e utilizza anche hashtag pertinenti come Louis Vuitton, bla 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 bla. Quindi avrete totalmente la descrizione di quello che dovete fare. Quindi su Pinterest questa immagine qua, per esempio, non va bene. Dovremmo prenderne una di una modella che indossa appunto questa borsa. E poi ovviamente prendiamo questo testo, copiamo e incolliamo. Chiaramente questa parte non ci interessa. Ed ecco qua, abbiamo totalmente la nostra descrizione. Cancelliamo anche questa parte. La descrizione qui risulta un po' troppo lunga. Quindi chiediamo a CiaGPT di farcela più breve. Iscrivimela breve. Facciamo lavorare. Ed ecco qua, la nostra descrizione, la borsa Louis Vuitton fatta più breve. Torniamo su Pinterest. Andiamo a cancellare la vecchia descrizione. Rimettiamo quella nuova. E il gioco è fatto. Qua aggiungeremo il link e andremo in pubblicazione. Questi sono i guadagni del mio ultimo mese e come vedi funziona. Vince solamente chi è costante. Come vedete è veramente, veramente semplice. Se ti serve aiuto o se vuoi affrontare un corso dedicato all'affiliate marketing, al dropshipping, e-commerce e come sfruttare l'intelligenza artificiale per spingere i tuoi business, puoi iscriverti al mio corso che trovi il link sotto in descrizione. Scrivi anche un commento con qualsiasi domanda e seguimi anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Yes. Grazie. Grazie.